Come in italiano, anche i pronomi e aggettivi determinativi latini svolgono la funzione di determinare, ovvero precisare una persona, un animale o una cosa, senza collocarli nel tempo e nello spazio. Facciamo un esempio con una frase italiana, come questa. Lui conquistò l'Italia. In questo caso, il pronome lui determina il soggetto solo nella persona, nel numero e nel genere.